il caso ha voluto che li leggessi tutti e tre nello stesso periodo uno dopo l'altro avevo voglia di mare di tornare a viaggiare in un periodo in cui non potevo farlo e soprattutto di mistero i figli del capitano grant ce l'avevo già è sempre stato lì in alto addormentato su uno scaffale come una statua impolverata lì fin da quando ero bambino comprato non si sa da chi ne perché mi fissava mentre lo spiavo terrorizzato dalla mole e affascinato dalle sue miniature è un'edizione di lusso bellissima con i bordi delle pagine dorati uno di quei libri che un ignorante con i soldi sarebbe felice di esporre in salotto accanto alla testa impagliata di qualche animale di grossa taglia un giorno presi la scala e lo raggiunsi lo sfogliai per la prima volta dopo anni che emozione cercai delle informazioni e scoprì che è strettamente legato altri due romanzi di verna 20.000 leghe sotto i mari e l'isola misteriosa insieme formano un trittico la trilogia del mare curiosissimo presi la decisione di leggerli tutti e tre nell'ordine in cui erano stati scritti quindi prima i figli del capitano grant che è del 1865 poi 20.000 leghe del 1869 e infine l'isola misteriosa 1874 in che senso formano una trilogia i tre romanzi sono del tutto indipendenti e possono essere letti singolarmente e di solito così avviene hanno trame e personaggi diversi ma hanno in comune il tema del viaggio in mare e si svolgono nello stesso universo narrativo infatti si intersecano senza tuttavia sovrapporsi o ostacolarsi chi noialetti tutti non si accorge di questi collegamenti e va avanti a leggere come se nulla fosse gli altri invece godono del fatuo privilegio questi altri però sono pochissimi senza altro esistono ma io non li conosco se tu che guardi sei uno di loro dimmelo 20.000 è ben conosciuto anche i figli del capitano grant gode di una discreta popolarità pochissimi sono invece quelli che hanno dedicato del tempo all'isola misteriosa il meno famoso dei tre il più amato da chi vi parla i figli del capitano grant comincia col più classico e banale degli stratagemmi narrativi un messaggio trovato in una bottiglia ingoiata da uno squalo ma è banale per noi lettori del ventunesimo secolo che ormai le abbiamo viste tutte e nulla ci stupisce non per quelli dell'epoca di verne e poi come dice umberto eco quando 100 cliché sono sparati senza pudore e aggiungo io con classe diventano mitologici è così anche in questo caso il messaggio contiene una richiesta di aiuto del capitano grant affidata al mare prima del naufragio della sua nave viene letto e da il via a un formidabile viaggio intorno al mondo dalla patagonia all'australia per trovare ed eventualmente salvare il suo autore alla spedizione partecipano naturalmente anche i suoi figli quelli del titolo gliene capiteranno di tutti i colori i figli del capitano grant è una specie di odissea moderna senza maghe né ciclopi ma comunque piena di colpi di scena prima dell'inevitabile lieto fine gli eroi si imbattono in airton che faceva parte dell'equipaggio della nave di grant di cui aveva cercato di impossessarsi è un farabuttonato e ci prova anche con quella dei figli baratterà delle informazioni utili per trovare il suo ex capitano in cambio di una semi libertà su un'isola deserta dettaglio importante perché ritroveremo airton nel terzo romanzo i figli del capitano grant è il più tradizionale e lineare dei tre e forse anche il più divertente ventimila leghe sotto i mari comincia come un film dell'orrore molte navi affondano misteriosamente i testimoni parlano di un gigantesco e velocissimo mostro marino a un naturalista del museo di storia naturale di parigi viene affidato il compito di rintracciare studiare ed eventualmente fermare il mostro ma avviene il contrario è la nave a venire speronata i pochi superstiti in balia delle onde si accorgono che la creatura è fatta di metallo e che non è affatto un mostro bensì una nave sottomarina i naufraghi vengono salvati e ospitati al suo interno all'interno del nautilus e fanno conoscenza col mitico capitano nemo comincia uno straordinario viaggio nel mondo segreto che si estende in tutte le direzioni sotto la superficie dei mari del mondo i naufraghi avranno la fortuna di ammirare cose che gli abitanti di superficie possono solo immaginare e forse neanche quello dalla perla gigante al funerale subacqueo con una croce di corallo anziché di legno conficcata nella sabbia dalla battaglia con i calamari giganti ad atlantide nonostante il fascino di questo show gratuito i naufraghi si rendono conto di essere prigionieri il capitano nemo vive lì nel nautilus e non ha nessuna intenzione di reintegrarsi nella società e non può permettersi che i suoi ospiti raccontino di lui non è cattivo ma tutto ciò che può fare per loro è non ucciderli non certo lasciarli andare alla fine però ce la faranno ugualmente il nautilus viene risucchiato in un gorgo i prigionieri si risvegliano sulla terraferma del capitano nemo nessuna traccia 20.000 leghe sotto i mari è giustamente uno dei romanzi più famosi della letteratura mondiale ma ha un punto debole la suspense si basa sull'ignoranza del lettore del lettore ottocentesco ovviamente che non poteva non rimanere sbalordito da cose come navi sottomarine calamari giganti e rovine di civiltà leggendarie al momento della grande rivelazione quando si scopre che il mostro non è un mostro almeno non in senso letterale il lettore moderno pensa a ecco il resto del libro assomiglia spesso più a una fiera delle meraviglie che a un romanzo i punti di forza però compensano ampiamente queste debolezze la vera identità del capitano nemo non viene svelata e anche le sue motivazioni rimangono in parte oscure è una scelta coraggiosa da parte di verne e molto elegante come sono eleganti le scene sottomarine che descrive la mia preferita è il funerale con la croce di corallo l'isola misteriosa è quella che accoglie cinque naufraghi americani è un'isola vulcanica apparentemente deserta sulla quale i fortunati fanno sfoggio di tutta la loro creatività ben oltre le mere esigenze di sopravvivenza creano addirittura una sorta di telegrafo elettrico tutto però sembra troppo facile ogni volta che sono in difficoltà accade qualcosa che gli risolve il problema o comunque un indizio che li conduce verso una buona soluzione all'inizio attribuiscono questi fatti al caso o alla fortuna ma a un certo punto diventa palese che ci sia qualcosa di più l'isola non è così deserta mentre si arrovellano trovano un messaggio in una bottiglia a questi messaggi proveniente dall'isola limitrofa l'isola tabor che è quella su cui era stato lasciato il farabutto airton ormai pentitosi delle malefatte e ridotto a un essere selvaggio alla fine il gruppo scopre l'identità del misterioso benefattore si tratta del capitano nemo unico sopravvissuto del nautilus ospiti a parte in auto esilio in attesa di una morte che non sembra lontana infatti l'isola esplode tuttavia i naufraghi vengono salvati dalla nave su cui avevano viaggiato i protagonisti dei figli del capitano grant tornata proprio per raccogliere airton l'isola misteriosa è uno dei romanzi più complessi catartici e ambiziosi di verne ma non ha meno ritmo degli altri e la tensione è altissima se i primi due libri della trilogia del mare ti fanno sentire fortunato di essere un lettore questo ti fa sentire sfortunato di essere solo quello anziché uno dei protagonisti l'isola misteriosa è in qualche modo realistico e ti convince che la vita se davvero lo vuoi e ti concentri può diventare qualsiasi cosa anche un romanzo ciao grazie